eravamo proprio presi indietro ma tanto ma tanto c'è tantissimo lavoro e ringraziamo signora che c'è tantissimo lavoro perché dopo due anni così che ci sia così tanto lavoro su la fabbrica la sono contenti è un buon segno eh sì anche per capo quella fabbrica la da lavoro a tanti poi intorno al seggino e mi aiuta dov'è che devo andare la piattaforma è sopra mi sembra su di 4 aspettiamo se la vedo della dico che non mi ricordo di crescita eccola la qua come nella la vedi la la gianto quella la pratica la città della giampa la vedi la giampa l'edito la vera numero più no sopra sopra montagne st io è la ah ma tu sei ma tu mi sei di qua eh adesso arrivo 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 eh ma c'è gente che aspetta un'altra attenzione perché non so se questo è un botto o no eh ma io c'è anche la pistola come là è un botto forse non lo so ma forse non è un botto ah non è un botto è scherzissimo ma l'avevo quasi ucciso che sfighe io penso che si prova a fare eh dov'è? eh non lo so ma cosa la giampa? ecco è dove c'è la giampa c'è uno aspetta che provo devi sparare e ci sono no ok 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 comunque la vedi la giampa lì dove è morto ancora no? cosa che bisognava farlo dopo aspetta eh la distanza percorsa a nuoto entro cinque sono due per aver rimbattato su un ombrello c'è un ombrello? qua ci sono gli ombrelli eh qua sotto uh mi spalano dov'è? eh non lo vedo è qua vedi la ma non lo vedo da qua aspetta che attende che ti spala eh non lo vedo da qua aspetta guarda 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 un po' di cipolli no merda guarda sono che è morto addio no non colpa sono in due sono in due raga una qua una la ho capito sono altri due questi oh merda si aspetta aspetta non posso farglielo curare si vai tranquillo va tranquillo se no mi sa che ho ancora cura io intanto vengo da te ahhh che c***o è un bel ammazzaggio allora quindi devo speriamo che non c'è più nessuno non possiamo fare se sfida maledetta santa pace e devo scurarmi prima però lo spursino uso lo spursino la giampe l'hai fatta no? si la giampe l'ha fatta da come è mi ricordo io me la vedo vediamo te lo facciamo allora stanza percorsa in deltaplano vista danneggio versare distrugge oggetti mentre guidi un veicolo danneggia distanza percorsa scivolando in laguna faccio delle cool faccio delle cool faccio delle cool allora aspetta quello dell'ombrello dove io volevo fare quello dell'ombrello dove c***o sta adesso l'ombrello maledetto poi c'è l'ombrello qua di fuori devi saltare sull'ombrello e poi devi nuotare c'è una sfida questa qua con 5 secondi dai cosa sta cosa qua? nooo ma non mi nuota che sfiga ah che me la contate a me percorsa è scivolando a laguna ok quindi scivolando ah si vado qua col fango qua fai con quel fango così ti fai prima più veloce lo sai? vado qua vado qua c'è il fango così scivolare velocesse la resta scivolata qua eiii vado fai questo fai un corpo solo ok l'ho fatta eh distruggi mentre guida un veicolo aspetta eh distanza percorso scivolando in laguna dove c***o vado fai qua no c'è una scivola qua dove t'ho puntato col fango fai due scivolate vabbè finire forte non ti vediamo fai subito fai subito ok apro ho fatto devo farmi gli scudi anche sennò eh quindi se ti comincio acquistarmi dai distributori automatici mi chiedici armi se io ho fatto non tante 10 ma in realtà che mi faccio gli scudi ma qua c'è un veicolo da qualche parte non del te si iniziamo una moto ok distanza percorsa a nuoto entro 5 secondi dopo aver rimbalzato sull'ombrellone eh la moto eh allora devo rimbalzare sull'ombrellone e nuotare e qua l'ombrello qua sta guarda l'ombrello allora manca da la tua parte manca da la tua parte eh però devi fare tante 5 secondi devi essere veloce andare nel laco subito eh se no non te lo conti dove sta la moto? su la moto ma non moto ma devi andare nel lago ma devi andare nel lago per non andare nel coso eh dove vado? eh lì nel lago no? che cacchio sei di qua eh? si ho capito perchè di là non te lo conti? andiamo con la moto? no ma c'è sempre una macchina per fare quella però sai che con la moto distruggio oggetti mentre guido un veicolo in quel mondo va bene i geni ah giusto gli oggetti quelli piccoli? eh capito però è un casino con la moto ok danneggio avversari eh arrampica del giocatore dopo aver sfondato un po' una porta devo sfondare una porta avrampicarlo sfonda la porta degno messicci posso distruggere qualcosa ma sfonda dove sfondo io la porta qualcosa e andiamo avanti no? scusate che sono distruggito un po' di roba perfetto è facile però eh che cosa mi manca? cos'è finito? altri sette oggetti devo spaccare io sto spaccando tutto cazzo l'ho finita sta sfida del merda no ah l'ho finita vuoi farlo? l'ho spaccato tutto però come quello allora verso nord o nord est questo è buter automatico ma sei tu sei tu no no sono io sei tu sei tu sopra si voleva aprir il coso ora oh ecco che sei davanti ghiè l'ho spaccato ma sei tu ah l'ho bato qua oh l'ha abbato dove? gloria qua ma questo potrino a fare su di più ho rotto le palle guarda eh eeeh molto vero chi ha? baduuu e quindi qua cos'è che devo aprire? quello che devi fare ancora e qua cos'è? scriviamo la porta cosa devo dargli qua? e deve così di lato la stad devi cliccare ma ok il cazzo è morto l'altro? madonna l'ho ucciso qua e è scomparso ok voilà è perta è perta è perta come sai aspetta che tu adesso cosa ti ho dato ahhh mi è fatto volare la pirule ma l'hai persa la foto? sei l'ha fatta ma dove hai dato la pirule? eh vogliamo dire infatti di volare con questo eh aspetta aspetta le torni giù perchè sennò distributore devo fare dei distributori e Norddeb e basta allora vai dove sei? aspetta che mi sono qua sotto sto arrivando sto scendendo sto scendendo sto scendendo qui dove andiamo? andiamo all'isla all'isla ma lì minchi dobbiamo chiedere qua ci arriviamo c'è eh non so mi sono tanti indietro a te a proviamo c sto sparando mi sta sparando mi sta sparando appena comparse c'è la prossima 2 vediamo se c'è il rift non c'è il rift pazzesco vediamo quella cosa qua andiamo su ecco il rift qua 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 eh vado 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 vai non si deve persi nessuno per una volta di me non possiamo prendere la cosa non abbiamo risposto di damage dalle 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 21 arrivo scritto ho detto ok 4 pack ancora fai 4 pack ostia vecchiamo che sta dovrebbero salire dall'altra adesso vado a guardare se c'è qualcuno qualche bacio un bacio questo fa il bambino vai questo qua è il tuo ma non vi piace c'è DMR d'oro anche vabbè DM d'oro amio io te la video c'è l'oro qua io son full 200 di oro non so se farmi questo farmi questo basta allora fammi vedere è una metraglietta al posto del coso vediamo un po' allora noi abbiamo i cosi questo oh hanno posizione attenzione mi stanno pushando non l'ho preso una volta è sopra siamo partenza che l'ho ucciso uno madonna che scarsi questi mamma mia scemonite scemonite che non c'è tanto scemono pure le armi avevano aperto il cavo sti maledetti arma mitica ce l'avevano eh ah se a me mi piace c'è qualcuno ancora mettilo più io sto ah ma non è mitico il po' è dolore aspettiamo ah no quello mitico c'è eh non lo so qua su qui no si stanno sparando mamma forse qua su guarda i botti stanno facendo i botti stanno facendo del coso eh no un colpo gli mancava quello quel culo che c'ha merda ma l'ho ucciso ma che l'ho battuto non posso farlo curare no sto bot di merda e che è andata a finire non c'è più è morto ancora c'è una scheda questi eh non danno neanche non è anche aperta la cosa, apriamo la no a questo punto ormai io, vedi la città adesso mi renda ma il calcio è la città il calcio è il calcio vedi la città cutta, putta, putta, fedef, andiamo via partiti, non si può andare via ma il calcio è l'ordicezza si ma perchè non si scalca più il calcio riempio lo spara, percchè non mi spara più il calcio No ma quando non si spazza non so A volte si spazza a volte no Vabbè piglia tutto d'oro Piga munizione qua piglia tutto L'ho lasciato di su E poi ce lo spazzo d'oro per una figlia così così Ok ho preso tutto l'oro Via 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 Vengo Vengo Dove sei? Ah c'è qualcuna aspetta Merda Che è detto su è andata Via 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 Ma che fa avanti via Vabbè 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 Via 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 che ce la sei Orta miseria Stanno volando anche loro ma Dove sono? Non lo so vedo Andiamo sulla Eh andiamo Andando vai avanti aspetta seguimi seguimi Dove sei tu? Sono qua Andiamo Bu Io direi di andare su di qua Magari bu Non so Più o meno Dai che sono andati questi Ah stanno andando in città eh Dove si farsi Non ci stiamo allontanando eh No no dai eh ci stiamo andando in città Vieni veniamo venuti su di qua Visto che di qua è la safe a questo punto Tanto dobbiamo andare dopo quello stesso Eh perché sono qua però Attenzione Eh no ma non sta andando proprio a vicino così Eh mi tanto vedo dov'è Mi tanto vedo dov'è Mi tanto vedo dov'è Mi metto qua eh Aspetta Mi tanto sono messo qua eh Io sono comprata dentro qua eh Ti dico dove sono Si rivedo te lo dico eh Eh io ho il termico adesso vediamo se rivedo ma Eh lo siamo in sei quindi siamo qui due E altri due ancora ci sono da qualche parte Dove puoi stare da dietro gli altri Dove puoi stare da dietro gli altri Dove puoi stare da dietro eh Forse non so Eh dobbiamo andare ad entrare comunque In un modo o l'altro Dobbiamo entrare Secondo me io andrei qua dalla parte sotto eh Vado andrei qua verso verso Vado andrei qua verso di tette per vedere dove che sta questo Forse Forse Sai io andrei verso di qua era Qua così Ma si sicura Verso l'acqua secondo me si sia andar sotto dopo Oh Prenderli da Dai Ti vedo qua queste eh Che campera eh Ma dobbiamo andare No no ma nell'acqua poi si sono fregati però eh Ma no ma c'è c'è il terreno però Sono qua intanto eh Se lo vi Che cazzo sta No ma sei leven Na o no 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 Fai realmente fai Mi scelto di là No 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 Porca miseria Eeeh non ho fatto ora girarmi, hai capito? C'era la safe, torriva troppo Ma io che non ho fatto il bibitone Potevo farmi il bibitone anche Eeeh dovevi fartela infatti Eeeh non perderemo un gioco più Ma dov'è che sta? Non ho capito Guarda di fronte qua Davanti a te, sopra la su caseggiata quello colato Dove andare di la porca Ah no, aspetta, non dai di la io? Guarda che so, vai sotto, vai sotto Devo fare tutto il giro, devo fare Sono fottuto eh Ma sono di qua allora Si, sono sopra ma mi ha sparato assopra Mi hanno zecchinato assopra Ah sopra il tetto della cosa Si Ma qualcuno qua è Ha quello che scende Eh no Deveva sparare qualcosa Doveva sparare di scemo Vai dentro, vai... eh Aspetta 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 Ma che sopra è Era la sopra prima Devevo coprire da qualche parte però Ma è l'ultimo, è rimasto l'ultimo quella eh Ah, era la sopra Ma questo come era da solo qua Sì 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 Sì, secondo me era l'ultimo Sì, sì, l'ultimo ha fatto Su amico Sì, questo... È qua dietro è Allora è di troppo È di troppo È di troppo cosa È di troppo Sì, senti il tutto È qua dietro è Di qua è oddio arriva dietro no secondo me non viene da qua, viene da qua sentite una porta aprire ok ok bravo ah bravo